ciao a tutti e ben ritrovati in questo video parleremo dell'arte dell'architettura romanica ma per farlo partiamo un attimo con una premessa secondo me molto importante e lo facciamo con il nostro libro di testo che per i miei studenti è questo oltre lo sguardo l'anno scorso alla fine della prima ci siamo lasciati parlando dell'impero romano ci siamo arrivati fino al palio cristiano quindi a questo capitolo in cui abbiamo avuto modo di vedere come sono nate le basiliche dei primi cristiani e questa immagine la vedremo tra poco un'immagine molto simile nella presentazione il discorso della basilica civile che diventa basilica cristiana i miei studenti ricorderanno e qua in sostanza comincia il medioevo guardiamo sul nostro libro quante pagine sono dedicate all'alto medioevo quasi parla della basilica di san lorenzo a milano i mosaici bizantini in generale il contesto dell'alto medioevo e già qualche capitolo è finito il capitolo dal quale cominciamo adesso la rinascita dopo il mille il romanico allora scusate un attimo ma questa chiesa di che anno è la vi vedremo dopo san pietro il primo san pietro edito di costantino 313 abbiamo 67 secoli di storia che vengono ridotti a poche pagine perché poi ci ritroviamo all'anno 1000 a parlare del romanico tema di questo video perché tutti questi secoli di storia sono ridotti a poche pagine nel libro di arte perché evidentemente è accaduto o meglio non è accaduto qualcosa in quello che viene chiamato l'alto medioevo passiamo quindi alla presentazione e vediamo di capire perché facciamo un salto a scuola dalla fine dell'epoca romana già all'anno 1000 bene fatta la dovuta permessa con il nostro libro alla mano vediamo di capire quali sono le caratteristiche quindi di questo periodo che va dal palio cristiano fino al tardo medioevo periodo nel quale poi con l'anno 1000 comincia il romanico l'argomento di questo video quindi abbiamo detto periodo di decadenza culturale tecnologica l'alto medioevo molte tecniche costruttive del tempo dei romani vengono dimenticate la stessa arte la scultura la pittura vengono semplificate o diventano semplice decorazione dell'architettura in particolare la scultura non è non ha più un suo ruolo come arte a sé ma diventa funzionale alla decorazione dell'architettura a livello di immagine e soprattutto il mosaico uno strumento grafico molto utilizzato e a livello di architettura lavoriamo con il castello la chiesa e il convento e noi in questo video in questa lezione ci concentriamo appunto sulla chiesa l'apporto culturale che ci viene dalle popolazioni cosiddette barbariche quindi dalle popolazioni del nord europa che scendono fino in italia è legato soprattutto all'artigianato l'orificeria ai manufatti a piccoli oggetti questo logicamente perché perché queste popolazioni sono in genere popolazioni nomadi o seminomadi che quindi non avevano avuto modo di codificare un'architettura per esempio arrivando al dunque quindi alla chiesa capiamo qual è stata l'evoluzione della basilica cristiana dall'editto di costantino 313 d.c. fino al romanico fino all'anno 1000 con questo editto l'imperatore costantino dichiara sostanzialmente che c'è libertà di religione e quindi anche i cristiani che fino a quel momento erano stati perseguitati possono finalmente costruire il loro tempio ma appunto fino a quel momento i cristiani erano sempre stati oggetto di persecuzione non potevano certamente professare della loro fede apertamente quindi i loro luoghi di culto erano dei luoghi nascosti come ben sapete dalla storia le catacombe piuttosto che case private in quel momento con questa legge dell'imperatore costantino che a sua volta si converte loro possono finalmente edificare i loro templi ma non l'hanno mai fatto e quindi devono inventarsi da zero un nuovo tipo di architettura qual è quindi il modello che vanno a scegliere possono scegliere il tempio pagano sì no perché provate a ragionarci possono scegliere un altro modello architettonico quello che accadrà è che loro sceglieranno e lo modello della basilica civile romana non il modello del tempio greco perché ovviamente non potevano fare riferimento a un edificio pagano e soprattutto il modo di svolgere le celebrazioni dei cristiani era diverso da quello dei pagani i pagani non entravano i fedeli pagani non entravano dentro il tempio ma entrava solo sacerdote come capitava anche nel tempio egizio quindi i fedeli stavano all'esterno nel porticato nel caso della chiesa cristiana invece i fedeli entrano in particolare nella chiesa di rito occidentale quindi sicuramente loro guardano alla basilica civile romana che ricorderete era un edificio quindi non religioso ma civile era una sorta di io la definisco una sala polifunzionale come oggi un auditorium quindi era un luogo di ritrovo diviso in spazi chiamati navate separati da colonne che normalmente aveva i tetti che andavano a salire gradualmente secondo questa sezione quindi questa questo edificio questo spazio aveva le caratteristiche adatte per essere usato come luogo di culto per i cristiani con alcune modifiche che abbiamo visto quando abbiamo fatto questo argomento in conclusione dell'arte romana la prima grande basilica che fa da modello a tutte le altre per il medioevo è questa che è la basilica di san pietro la basilica costantiniana perché se siete stati a roma vi accorgerete bene che questa non è la basilica di san pietro che vediamo oggi ma è un'altra basilica che oggi non c'è più in questa pianta qua in basso noi possiamo vedere tre piante sovrapposte nella zona che oggi chiamiamo vaticano e che anche allora si chiamava la zona vaticana c'era all'inizio un circo quindi un piccolo ipodromo voluto da nerone all'inizio poi dismesso diventa luogo di persecuzione di sepoltura dei cristiani quando costantino vuole edificare la prima grande basilica dedicata a pietro a san pietro decide di farlo esattamente sul luogo in cui san pietro venne ucciso e poi sepolto quindi questa in giallo è la pianta della basilica di costantino di cui vediamo qua una ricostruzione l'altro profilo è l'attuale basilica di san pietro che venne edificata a partire dalla fine del 1400 che quindi risulta più grande la basilica di costantino vedete che aveva il corpo principale della chiesa che ricalcava il modello della basilica civile romana una pianta a forma di croce e davanti un quadriportico quindi uno spazio filtro tra l'esterno e lo spazio interno della chiesa questa chiesa questa prima basilica di san pietro che durerà per mille anni sarà uno dei principali modelli di tutte le chiese del medioevo essendo una delle prime grandi chiese ovviamente nel momento in cui in altre parti d'italia si voleva edificare una chiesa andavano a vedere questa e quindi il modello della basilica cristiana resta per molti secoli ancorato al modello della basilica civile romana guardando appunto al modello di san pietro e arriviamo quindi all'anno mille abbiamo capito come mai tutti questi secoli dell'alto medioevo nel libro di arte vengono sostanzialmente saltati il romanico va dal 1000 al 1200 circa inizia perché c'è sempre un perché economico alle spalle una graduale ripresa economica che permette quindi di poter investire soldi di poter utilizzare i soldi per arricchire anche livello estetico le architetture e in questo caso si parla sempre di chiesa perché attorno alla chiesa c'è come dire un certo giro di economia di soldi e di investimento di capitali dove avviene il romanico a partire dai paesi latini quindi dal sud Europa poi in tutta Europa e come già detto molte volte la chiesa è la principale architettura sulla quale possono lavorare gli artisti artigiani artisti che appunto lavorano in questi cantieri si spostano da un cantiere all'altro in tutta Europa e sono loro che spostandosi contribuiscono a diffondere queste idee il nome romanico invece è un nome dato in epoca moderna come spesso capita a questi a questi stili non è un nome che si danno loro è un nome che viene successivamente scelto dagli storici guardando e analizzando le varie architetture di questo periodo e glielo danno perché perché vedono un uso dell'arco e della volta tipici dell'architettura dell'antica Roma e da qua gli danno questo nome romanico le caratteristiche specifiche di questa chiesa quale ho elencate in questa diapositiva e nella successiva e le possiamo sostanzialmente rivedere in questa immagine che rappresenta uno spaccato sonometrico generico di quella che potrebbe essere una chiesa romanica qua riconosciamo una facciata una struttura che di nuovo richiama al modello della basilica civile romana ma al tempo ecco qua ma al tempo del romanico si diffonde anche un altro tipo di facciata che viene chiamata capanna quello che più richiama la forma della basilica civile viene chiamata facciata assalienti e ricordo un po questo tetto che sale mentre questa che ha più la forma di casetta viene chiamata capanna e sono i due modelli di facciata che noi possiamo avere nel caso della chiesa romanica inoltre vediamo il materiale di costruzione è lasciato a vista e non è sempre lo stesso perché i vari esempi di chiese romaniche in italia in particolare possono essere in mattoni quindi materiale di base d'argilla in pietra in vari tipi di pietra in tuffo in puglia per esempio in marmo in toscana nel caso di aquileia abbiamo il riciclo della pietra degli edifici romani quindi si usano materiali a chilometro zero quindi materiali semplici materiali che sono a disposizione e che quindi possono essere reperiti con con poco costo e genericamente non sono rivestite anche qua perché rivestire la chiesa decorare la chiesa significa avere un costo in più abbiamo degli esempi di chiese rivestite come nel caso delle chiese toscane pensiamo al domo di pisa ma questo perché c'erano magari in quei luoghi le condizioni economiche e anche di materiali che permettevano di arricchire un po di più la chiesa all'esterno sempre vediamo poche finestre poche finestre perché i muri dove dovevano restare massicci non potevano essere eccessivamente forati se no sarebbero diventati troppo deboli anche se potevano essere rinforzati con questi costoloni esterni che vediamo chiamati contraforti e che ritroveremo poi anche nel gotico all'interno l'uso dell'arco a tutto sesto romano il pilastro composito questa sorta di soppalco di loggia che poteva essere presente sopra la navata laterale chiamata matroneo e che luogo in cui stavano le donne perché a quel tempo donne e uomini erano separati all'interno della chiesa ci poteva essere un controsoffitto realizzato con volte a crociera tra un attimo ci torniamo su queste il tiburio che era una sorta di antecedente della cupola una specie di nonno della cupola non è una cupola semisferica ma è un elemento poligonale una sorta di torione che poteva anche servire a portare luce all'interno di questa chiesa che aveva poche finestre sotto il tiburio grosso modo c'è la zona dell'altare e sotto l'altare la cripta con le reliquie dei santi la pianta della chiesa ha una pianta a croce latina mentre nei modelli orientali e che si ispirano ai modelli orientali c'è la pianta a croce greca simmetrica e quindi capiamo che in generale la chiesa romanica è una chiesa sostanzialmente semplice la volta a crociera è un'invenzione utilizzata in questo tipo di chiese la vediamo qua chiamata crociera perché in sostanza è l'incrocio tra due volte a botte l'arco tutto sesto qua chiamato anche arco semplice che è l'arco romano i romani avevano inventato la volta a botte due volte a botte che si incrociano generano la volta crociera la volta crociera che fa da controsoffitto cioè che nasconde la struttura in legno appoggiava sui pilastri compositi una sorta di pilastro realizzato idealmente da quattro pilastri attaccati insieme era alla fine una struttura estetica decorativa del pilastro questa è un'immagine di una chiesa gotica anche nel gotico si mantiene l'uso della volta crociera esempi di chiese romaniche il duomo di udine adesso le vedremo la basilica di sant'ambrogio a milano interessante per la facciata capanna e per l'uso del mattone il duomo di pisa che qua non riporto ma vedete per chi usa il libro riporto le pagine del nostro libro duomo di pisa per l'uso del marmo in toscana il duomo di modena in emilia anche qua per l'uso del marmo e di particolari decorazioni scultore infine vedremo la basilica di san marco a venezia molto interessante per via dell'influenza orientale con l'uso della cupola e della pianta croce greca andiamo infatti adesso a chiudere vedendo questi importanti esempi ecco il duomo di udine questa chiesa non è sul nostro libro perché non è una chiesa per virgolette importante però la chiesa principale della nostra città di udine ed è una chiesa molto interessante chissà quante volte ci siete passati davanti e magari non avete osservato con attenzione perché magari è una vista abituale per voi camminando in centro com'è la facciata di questa chiesa quali sono le sue caratteristiche proviamo a osservarla e ad analizzarla alla luce di quello che abbiamo detto sul romanico vediamo che la facciata è a salienti perché ci sono questi tetti che tendono a salire evidenziando anche le navate interne ma le navate in realtà le riusciamo a distinguere soprattutto dalle porte tre porte questi spazi laterali in realtà non sono navate ma sono delle cappelle che si possono vedere quando entriamo quindi chiesa tre navate il materiale è principalmente il mattone vi sono poi dei rimaneggiamenti di altre epoche infatti vediamo che pur avendo le caratteristiche della chiesa romanica quindi poche finestre piccole abbiamo dei rosoni molto semplici notiamo che i portali hanno le caratteristiche che vedremo nel prossimo video dello stile gotico con questa che viene chiamata strombatura e l'arco che non è a tutto sesto non è a semicerchio ma ha una punta l'arco a sesto acuto gotico entrando ci potremmo accoggere che ci sono caratteristiche del barocco che è uno stile ancora successivo quindi capiamo che in ogni epoca quando venivano fatti di rimaneggiamenti a questi edifici non è che andassero a pensare come facciamo oggi alla conservazione dello stile originario ma facevano gli interventi nello stile dell'epoca in cui si trovavano in quel momento i progettisti e gli architetti ecco perché abbiamo una chiesa romanica con degli elementi gotici all'interno degli elementi barocchi poi anche questa non è sul vostro libro ma la conosciamo bene perché è a mezz'ora di macchina alla casa nostra la basilica di aquileia ben la conosciamo perché ne abbiamo parlato anche in un altro video in un'altra lezione una lezione che abbiamo fatto alla fine della classe prima anche in questo caso vediamo che nel nome e nelle fattezze si richiama la basilica civile romana qua viene usata la pietra perché hanno la possibilità di riciclare i materiali dell'aquileia romana che era stata distrutta da attila e questa stessa basilica abbiamo detto non è la basilica iniziale fatta nel 300 al tempo dell'edito di costantino ma una basilica successiva nelle fattezze nelle forme che vediamo qua è anche questa dell'anno 1000 grosso modo davanti presenta questa struttura che è il battistero il cui tetto originale non c'è più all'interno vediamo la divisione internavate e i mosaici che sono stati in realtà riscoperti nel novecento perché il pavimento originario della basilica medievale li andava a coprire anche qua possiamo vedere degli archi che non sono propriamente degli archi romanici ed ecco uno dei massimi esempi del romanico in italia oggi quando andiamo a milano e pensiamo a milano ci viene sicuramente in mente il duomo di milano come chiesa e lo vedremo dopo nel gotico ma se parliamo di romanico un grandissimo esempio dell'architettura romanica in italia è la basilica di sant'ambrogio a milano sant'ambrogio insomma possiamo sapere che vedo il santo più importante della città di milano anche qua intorno all'anno 1000 viene edificata questa chiesa la facciata com'è è simile o è diversa quella del duomo di udine se ragioniamo vediamo dei materiali simili il mattone mattone rosso però la facciata è una facciata a capanna benché in realtà la facciata vera e propria sia un po nascosta perché qua davanti abbiamo come si vede un portico perché come nel san pietro di costantino la basilica di sant'ambrogio ha una sorta di zona filtro all'ingresso che è questo quadriportico cioè un cortile che sui quattro lati ha dei portici questo quadriportico che fa da filtro appunto come dicevo all'ingresso proprio della chiesa e già qua possiamo vedere l'arco a tutto sesto il pilastro composito all'interno ritroviamo l'arco a tutto sesto il pilastro composito l'uso della volta carcera che quindi nasconde il soffitto in legno mentre nella basilica di qui lei al soffitto in legno è vista all'esterno abbastanza tipico di questa chiesa sono i due campanili di epoca diversa in posizione diversa questo è il massimo esempio di chiesa che racchiude proprio tutte le caratteristiche della chiesa romanica e veniamo invece un caso molto speciale di nuovo vicino a noi a venezia un paio d'ore di macchina o di terreno da udine la basilica di san marco è una basilica che ha evidentemente subito le influenze orientali facile capire perché sappiamo che la repubblica di venezia commerciava con l'oriente quindi hanno avuto i veneziani la possibilità sicuramente di osservare le architetture orientali le moschee ma non solo e quindi vediamo l'uso della cupola che nel resto d'italia diventerà più abituale con di rinascimento in particolare questa chiesa sicuramente molto più decorata all'esterno ma anche all'interno con l'uso dei mosaici dorati perché i veneziani come repubblica marinara erano anche un po più ricchi quindi una chiesa più decorata una chiesa più arricchita una chiesa dalle forme diverse oltre alla cupola se andiamo a cercare una pianta della basilica di san marco e la potete trovare sul vostro libro anche la basilica di san marco usa la croce greca quindi una pianta simmetrica non la croce latina da dove prendono questa idea sempre dal modello orientale ancora oggi le chiese ortodosse cristiane ortodosse che sono chiese del culto orientale e anche presenti in certe zone dell'africa abbiamo delle chiese simmetriche quindi a croce greca o circolari o poligonali con questo con l'esempio di venezia vado a concludere il video sul romanico prossimo video invece il passaggio successivo che è quello appunto all'arte gotica quindi continuate a seguirmi e ci vediamo col gotico alla prossima lezione buono studio buon lavoro ciao grazie a tutti